carissimo pubblico di auto occasioni ben ritrovati oggi mi trovo da gruppo logica in compagnia di davide marano in piazza aderna ciao greta e bentornati davide ricordaci un po le sedi esattamente le sedi piazza aderna 229 torino sede storica via lanzo 29 borgaro e per gli amici di biella via repubblica 60 so che in tutte le sedi troviamo il brand kia giusto ben detto tutta la gamma in pronta consegna potete provarla su strada chiamateci per fissare un test drive questo mese c'è una grande novità quindi seguiteci abbiamo nuovi brand ecco la novità davide ben detto greta gamma wave 2 gamma 3 è totalmente in pronta consegna per chi non conosce fanno parte del gruppo euro asia motor company vetture con tre anni di garanzia formula free 96 può essere vostra con una rata da 159 euro al mese tutto incluso vetture garantite con impianto gpl montato dalla casa con garanzia davide qui di fianco a me vedo una grande novità giusto ben detto greta qui non solo per i privati ma anche per tutti i possessori di partita iva vettura autocarro che dire vettura pick up photon g7 in pronta consegna disponibile sia manuale che cambio automatico prezzo a partire da 26 mila euro più iva ritornando al marchio kia hai qualche novità qualcosa da suggerirci chi ha piccato disponibile in pronta consegna ora anche gpl sempre con 7 anni di garanzia e esenzione bollo per i residenti del piemonte offerta strepitosa 59 euro al mese con scelta kia e con una macchina rotta mare euro zero davide paraci di questa vettura bellissima kia stonic intramontabile anche lei disponibile benzina benzina gpl o mild hybrid pensate bene fino a 7 mila euro di sconto d'ottomazione su tutte le vetture in pronta consegna in piazza aderna da logica un vasto assortimento di vetture d'occasione seguiamo davide e partiamo con una kia stonic 1.2 benzina gpl allestimento style anno 2021 chilometri 54 mila prezzo 16 mila e 900 euro introdabile sul mercato kia xeed benzina gpl allestimento business chilometri 53 mila prezzo 20 mila e 900 euro SUV per l'eccellenza kia e v9 totalmente elettrica allestimento gt line vettura aziendale anno 2023 chilometri solamente 3500 prezzo 69 mila sportività lusso e tanto spazio kia sport g16 ibrido cambio automatico anno 2022 chilometri 32 mila prezzo 34 mila e 900 euro economica nei consumi opel moca 1.4 benzina gpl economica nel prezzo 12 mila e 500 euro anno 2018 chilometri 94 mila bellissima jeep compass 1.6 turbodiesel anno 2019 chilometri 84 mila prezzo 16 mila e 400 euro bellissimo colore bellissimi gli interni di questa drf 35 benzina gpl anno 2020 chilometri solamente 72 mila prezzo 15 mila e 900 euro vettura impeccabile bmw serie 1 118 m sport anno 2018 chilometri 81 mila prezzo 18 mila e 900 euro jeep renegade 1400 turbo benzina gpl anno 2018 chilometri 86 mila prezzo 16 mila e 300 euro e andiamo avanti con la hyundai tucson 1.6 turbodiesel cambio automatico mild hybrid anno 2019 chilometri solamente 53 mila prezzo 20 mila e 900 euro 3.800 2 benzina allestimento gt line cambio automatico 130 sony cavalli anno 2019 prezzo 18 mila e 900 euro lexus ux 250 ibrida 4x4 cambio automatico anno 2020 chilometri 87 mila prezzo 20 mila e 500 euro sportage gt line plus motorizzazione plug in 265 sony cavalli vettura aziendale anno 2023 prezzo 45 mila e 900 euro bellissima jeep renegade 1300 turbo benzina cambio automatico 150 cavalli anno 2021 prezzo 19 mila e 900 euro intramontabile questa golf allestimento sport 150 cavalli 1500 turbo benzina anno 2017 prezzo 17 mila e 900 euro e chi ha nero 1.6 benzina allestimento style cambio automatico vettura esente bollo per 5 anni anno 2021 chilometri 54 mila prezzo 20 mila e 900 euro bellissima nissan cascai vettura aziendale viva esposta 1.3 turbo benzina cambio automatico chilometri solamente 28 mila prezzo 17 mila e 600 euro fantastica chi ha picanto mille benzina gpl anno 2022 chilometri 65 mila prezzo 14 mila e 900 euro e chi ha stonic mille e due benzina gpl bellissimo colore rosso nero allestimento style anno 2021 chilometri solamente 46 mila prezzo 15 mila e 900 euro bellissima lancia y12 allestimento gold anno 2000 chilometri 42 mila prezzo 11 mila e 300 euro tantissimo usato davide per chiudere questa puntata ricordiamo le sedi piazza derra 229 torino via lanzo 29 borgero e via repubblica 60 a biella noi vi ringraziamo per essere stati con noi grazie greta e ciao a tutti voi alla prossima ciao a tutti